Finalmente ha aperto la nuova ala della fattoria, cosa ne pensate? Siete contenti? Era da tanto che l'aspettavamo Siamo contentissimi, poi è bellissima, non vedevamo proprio l'ora, speriamo che porti tanta tanta gente nuova Aria fresca per il commercio? È normale, sì, penso proprio di sì, ci voleva una ventata di aria nuova e di novità e Zoccarato ce l'ha data tutta Grazie A voi Sì, è molto bella, molto nuova, adesso guardo bene i negozi, comunque mi sembrano molto carini e sono contenta Speriamo che apra anche l'ultima ala e è una buona cosa per Rovigo, secondo me Speriamo bene, oggi vedo già un po' più di movimento, spero non sia solo per il primo giorno e ci auguriamo che adesso vada tutto per il meglio, che ci sia più viabilità anche da questa parte Era da tanto che si aspettava la realizzazione dei lavori? Eh sì, molto, da tre anni quasi che si aspettava, sì sì, e finalmente la data è arrivata Era da tanto che l'attendavamo, infatti siamo molto molto contenti, io devo ancora sbirciare però appena finisco il turno vado subito perché sono curiosissima e spero che anche aiuti questa apertura a portare più gente nel nostro centro commerciale che è sicuramente un bel centro commerciale pieno di negozi e pieno di commesse simpatiche Guarda, devo dirti la verità, è tutto molto moderno, un ambiente molto luminoso ci sono anche nuovi negozi che comunque dall'altra parte non trovavamo quindi abbiamo anche un'area commerciale molto più ampia e l'ambiente luminoso secondo me comunque rende tutto molto diverso, molto più bello È molto bella, è molto bella, sì, molto luminosa, carina, ha un grande impatto Uno spazio moderno? Sì, decisamente È da due anni e mezzo che si aspettava questo momento e diciamo che al momento insomma ha un bel impatto, la struttura è molto bella, negozi nuovi e speriamo adesso che ci sia molto più movimento Questo momento è fatto